Oggi siamo qui per questo primo torneo internazionale Rotary a sei squadre, il cui senso è quello di provare a far crescere questo movimento. Questo movimento ha poche occasioni di confronto tra squadre di livello e questa vuole essere la prima occasione di confronto tra squadre di livello del Nord Italia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti